Salve a tutti! Oggi io spiego come si indossa la cintura ortopedico. Prima prende la parte più larga e mette indietro così. Trova le cinghe più larghe e una per volta tira avanti per attenere col velcro. Secondo dopo, prende le cinghe secondarie e tira così fino a sentire stretto. Non stretto al punto che tu non puoi respirare, però la strettezza della cintura fornisce il sopporto ai muscoli. Se hai bisogno di mettere la cinta ogni giorno, tutti i giorni, al punto che tu senti il 50% più meglio. A questo punto, chiama il tuo dottore di chiopratico per prendere di più consigli. Io sono il dottore Antonio Lombardi. Se tu hai domande, extore at usa.com. È il mio molto piacere. Buona giornata a tutti! Grazie. Grazie.